Musica Vediamo la programmazione del SimpliVu. Nel SimpliVu la programmazione prevede 7 programmi differenti, uno per ogni giorno della settimana. Ogni programma è definito dalla posizione di 48 cavalieri, uno ogni 30 minuti. Dalla pagina principale premere il tasto PRG. Lampeggia il giorno 1 lunedì. Scegliere con le frecce il giorno da modificare. Dei 6 sabato, dei 7 domenica, dei 1 lunedì. Premo PRG. La programmazione parte dalla mezzanotte del giorno selezionato. Usare le due frecce per selezionare Relay On e Relay Off e PRG per confermare e proseguire. Relay On, PRG. Ogni cavaliere 30 minuti. Per proseguire Relay Off, tasto a sinistra frecce in giù, PRG per confermare e proseguire di 30 minuti. Costruisco la programmazione cavaliere per cavaliere. Una volta terminato, tengo premuto il tasto PRG per qualche secondo, finché lampeggia nuovamente il giorno. Si esce dalla programmazione anche se non viene premuto alcun tasto entro 40 secondi. Le modifiche vengono comunque salvate. Proseguo giorno per giorno, completando la settimana. Una volta terminato, tengo premuto il tasto PRG fino alla pagina principale. Vediamo ora la programmazione avanzata. Dalla pagina principale, tengo premuto il tasto PRG per qualche secondo. Seleziono l'area geografica, 1 Europa, 2 Nord America, 3 Australia, 4 Cile, 5 Nuova Zelanda. Seleziono nel nostro caso, posizione 1 Europa. Proseguo PRG anno, mese, giorno, ore, minuti, se necessario modifico con le frecce. Ora legale attiva, programmazione, 7 per programmazione settimanale, 1 per programmazione giornaliera. Seleziono 7, programmazione settimanale. PRG nuovamente, sono nella pagina principale. Vediamo la funzione copia. Dalla pagina principale, premo una volta PRG. Seleziono il giorno su cui voglio copiare il programma. Per esempio, Day 7. Premo PRG. Da questa schermata, premo insieme le due frecce, finché compare copy. Ora, vado a selezionare il giorno che voglio copiare sul Day 7. Per esempio, Day 2. Premo PRG. Day 7 copiato correttamente. Tengo premuto il tasto PRG per confermare. Sono di nuovo nei giorni. Per tornare alla pagina principale, tengo premuto nuovamente il tasto PRG. Sono sulla schermata principale, ora da qui, premendo il tasto frecce in su, è possibile visualizzare in successione i programmi di ogni singolo giorno. E infine, la data impostata. Premo di nuovo frecce in su per tornare alla pagina principale. Vediamo ora come effettuare il reset. Tengo premuti tutti e tre i tasti contemporaneamente per qualche secondo. Finché compare la scritta DEF. Ora, mentre lampeggia, premo PRG. 照 rollo 24. bebiti E vedi Mariposa E vedi Andra Web2 S cheese S li